Quando è che tornerai? Ah, molto presto. Hai paura? Beh, tu non ce l'avresti. Se dovessi combattere con una montagna di muscoli come quell'altro, chissà avrei paura. Ecco, a dire la verità, sai, certe volte un po' di paura ce l'ho, è vero. Quando sono sul ring e quando le prendo e le braccia mi fanno tanto male che non riesco più a alzarlo. Dio, quanto vorrei che mi beccasse sul mento, così non sentirei più niente. Però poi c'è un'altra parte di me che non vuole mollare. Perché fare un altro round, quando pensi di non farcela, è una cosa che può cambiare tutta la tua vita.